Quattro gare su cinque con il punto interrogativo che riguarda il Pineto e quando la squadra di Marco Bomante potrà tornare a giocare. La terza giornata del girone di ritorno in serie di vedrà tre abruzzesi in casa e una sola trasferta, quella della Giulianova a caccia di punti salvezza. E saranno proprio i giallorossi che avranno il turno più insidioso al Tubalde contro una recanatese che, seppur col camion in panchina, non è ancora riuscita a dare una sterzata al proprio campionato. La formazione di Leonardo Bitetto invece ha dato segnali incoraggianti, la squadra dimostra di credere ad una rincorsa che passa anche dal fatto di strappare un buon risultato nelle marche, facendo affidamento anche sul ritorno davanti di Cesario e sul recupero di chi è ancora out. Molto meno complicato, almeno sulla carta, l'impegno a cui sarà atteso il notaresco, che al Savini incontra un agnonese mestamente all'ultimo posto insieme all'atletico Porto Santerpidio, con il rosso-blu di Epifani che attendono buone nuove dalla partita tra Campobasso e Castelfidardo che si gioca nel nuovo Romagnoli. Nella squadra di casa Banegas è sugli scudi anche in settimana, ma davanti Olcese sembra aver preso un margine di vantaggio su Dos Santos. Il tecnico però, visti i tre impegni settimanali, potrebbe essere tentato dal rimettere il brasiliano dal primo minuto. Il Castelnuovo, dopo la sosta forzata di mercoledì, invece, ospita sul proprio terreno di gioco l'Apriglia e potrà contare in zona offensiva sul classe 2001 Nicolo Gardini, che aveva iniziato la stagione in eccellenza a Nereto, realizzando tre reti in segale, cresciuto nelle giovanili del Teramo per poi realizzare 43 reti con gli allievi della Virtus Teramo e 13 in due stagioni di promozione da fuori quota con il Mosciano e il Miano. I Neroverdi nel giro ed è andata hanno posto le basi per una fase 2 del campionato che può vedere la qualificazione ai play-off sognando, magari, che davanti rallentino in due. Torna tra le mura Michela Vastese, che ospita il Fiuggi, formazione insidiosa quella di Beppe Incocciati, che mercoledì però nell'infrasettimanale ha perso col Matese, mentre, come ammesso dallo stesso Fulvio D'Adderio dopo il match di Giulianova, gli aragonesi sono in leggera flessione. Ma l'Aragona può dare la spinta per arrivare ad un numero in doppia cifra di risultati positivi. Come detto, il Pineto salterà la gara numero 7 e con lo stop contestuale anche di Giordano Fioretti, che di fatto non è riuscito a vestirsi di bianca-azzurro in una gara ufficiale, la società del presidente Silvio Brocco va a caccia di un attaccante. Il nome è quello di Pierluigi Cappelluzzo, ex Pescara dopo l'ultima esperienza nella vita erbese svincolato, e potrebbe firmare proprio per il Pineto, aspettando che la squadra di Pomante possa tornare finalmente in campo.